Starlit Adventures Bene Melanie, l'ho scritto bene il nome? Sì Ok, perfetto Allora, adesso giochiamo Modalità storia Abbiamo già fatto qualche livello Io e mia figlia sono solo del primo mondo Io voglio quello che... Aspetta un secondo che... Ok, dovevi scegliere il personaggio Ok Voglio quello che lancia le frecce Quello che lancia le frecce Io allora sceggo l'altro Tu invece vai a destra Con la freccetta a destra Vai a destra Ok, e schiacci la X Perfetto Schiaccia X di nuovo Ok E iniziamo Vediamo Io sono il blu e tu sei il rosso Bene Vediamo se riusciamo a fare il record Tu vai a sinistra, eh Vieni giù e poi vai a sinistra Ok Perché una volta già abbiamo fatto il record Di etè che è di 10.100 punti Vai Ti aspetto Vai, prendi lì Perfetto Però non lo so Perché è difficile Riuscire ad eguagliare il record, eh Vediamo se riusciamo Vai, vai Spacchi Ehi Nooo Ferma lì Ferma immobile Nooo Ci siamo persi Ah, ce l'ho fatta Ok Ok, vai Non andare a privirlo Abbiamo vinto anche un trofeo Ah, brava Ok Eh, sei stata bravissima a prendere quelli Aspetta che Vai anche a prender l'altro Lo prendo io Aspettami però, eh Aspetta Ma questo non lo prendiamo? Ok Checkpoint è importante Ti dà anche 100 punti Vai Perfetto Allora Tu vai Ferma Nooo Aspetta Ferma A filo, eh Ok Aspetta un secondo A scendere Vai di là Vai più in là Ok Tu vai di lì E devi andare Giù Destra Giù Destra Giù di uno E a sinistra Scusa Eh, vabbè Ti devi farci così Va bene Aspettami però, eh Aspettami un attimo Ah, l'ho perso uno Mi sa che il record Non riusciamo a pareggiarlo A meno che il tesoro Alla fine con la chiave Non ce ne dia tanto Aspetta un attimo Ad andare alla fine Ok, vai Vediamo Vediamo Che forse Forse Vediamo un po' Oh yeah Nuovo punteggio più alto Batti il 5, Melanie Bravissima Abbiamo vinto Vero? Sì Eh, tasca della giacca Basta, ok? Eh? Basta, papà Basta Non facciamo il livello 2 Il livello numero 6 6? Sì Aspetta un secondo Vediamo che livelli Che livelli abbiamo da fare Aspetta Beh? Ok No, siamo arrivati al 3 Dobbiamo ancora fare il 4 Però io farei Prima il 2 Poi il 3 Poi il 4 Va bene? Dai Vieni qui sul divano Il numero 2 Cosa ti fa qui? Allora, scendo io Vuoi che li scendo io A sconfiggere i mostri? Ah, brava Vai giù tu Che Io già ho sbagliato Ok Ti lancio una freccia Ti lancio una freccia Guarda che io sono a terra Vai col quadrato Ok Ti spingo Ti ho spinto Anch'io No Ti lancio le frecce Ti spingo Anch'io Ti spingo Ti spingo E ti lancio Le frecce Ah Io salto Dai Io vado di qui Io inizio a scendere Attenta che ci sono i nemici Qui, eh Cosa vuoi fare? Scendi tu Brava Aspetta Fermo un attimo Che devo prima Sconfiggere anche questi Ok Vai Ma Dai Fermo No Chi hai parlato Eh no Sei caduta Sopra uno di questi nemici Ma non importa Adesso rifacciamo Ok Vai Scendi Scendi Meno male Che Tu le confini Sì Vai Scendi tu Ehi Tu sei quella rossa Spendi giù il mattone Spingilo giù te Ok Bravissima Uh Spara Spara Doviamo rifare questo pezzo Non importa Vai Spingi tu Aspetta Melanie Fai con calma Se no Ti continua a venire addosso Il mostrino rosso Ok Vai Scendi Fermo un attimo Fermo Oh no Niente Vieni Scendi Vai giù di lì Non vuoi Dai Ma con l'altra rotella Melanie Che stai facendo Perché di qua sei venuta Avevamo una cassa in più Eh che ti ho salvato Eh Ah ferma Vieni qua per favore Aspetta Aspetta Ferma qui Ferma Ferma Ok Grazie Vuoi salirmi anche tu sulla testa? No Ok Tu dove vai? Di là? Io di qua Vai Prendi la Brava Ma sei troppo forte Vai Aspetta Eh un attimo Ti aspetto Ah vieni qui Che dobbiamo fare questa roba qua Io Io voglio La fai tu Vieni Allora Saltami sulla testa E sposta la freccia A sinistra Mi salti E vai a sinistra Con l'altra Non con quella Con questa qui Devi andare a sinistra E saltare Salta e vai a sinistra Salta Ah Quasi È un po' difficile Riprova Salta e vai a sinistra Non riesco Allora vieni qua Che lo faccio io No Col tuo Vieni qui Vai un po' più a sinistra Vai tu un po' più a sinistra Così Ok No Vieni un po' più in qua Vieni vicino a me Ferma Ferma Ops Rifallo Vieni vicino a me Ferma Uffa Sbaglio sempre Vieni vicino a me Brava Hai visto Dovevi far così Ce l'ho fatta Ok Andiamo Vai tu ad aprire il franziere Questa volta Scendi Vai a aprire Lo scrigno C'è già la chiave Ce l'abbiamo già Ok prendi tutti i tesori Hai dimenticato Una pietra blu Era importante quella Adesso è il livello Nuovo Vediamo Nuovo punteggio Più alto Anche qui Pure avendo dimenticato La pietra blu No Dopo il 2 Che livello facciamo Dopo il 4 E il povero Il livello 3 Il livello 3 Facciamo Scusami Abbiamo fatto l'1 Facciamo il 2 L'abbiamo già fatto E adesso facciamo Il 3 Ah ok E' uguale all'altro Guarda io resto giù Tu vieni sopra la mia testa E lanci le frecce Vai Perfetto Grande Oh e ragazzi Anche l'idea di spostare direzione Per lanciare la freccia è giusta Figlia di un vero gamer Giù Vai giù Vai Vai avanti per favore No Io sono molto fantastico Ah fantastico Bene ragazzi Se il livello finisce qui Allora ho deciso di spopolare mia figlia Con un sasso gigante What up Va bene Grazie di aver guardato questa breve live Ho scelto missa la giornata sbagliata Jesse per farla Che di solito Melanie qualche livello in più Se lo vuole fare Anzi generalmente Lei vuole sempre fare E rifare il primo di livello Però Va bene Chiudiamo un po' Qua questa applicazioncina Qua questa applicazioncina Mi nota È un po' Qua questa applicazioncina Qua questa applicazioncina